Ok, papà, ti faccio vedere un effetto incredibile, il più incredibile al mondo, mazzo di carte tutte diverse, sei testimone? Sì. Mescola le carte tu stesso, la mia cameraman, riprenda che sta mescolando, stai venendo giusto? Ok, sei d'accordo che è tutto mescolato, qui non posso sapere niente, guardate ragazze perché le premesse di questo effetto è incredibile vero, ora da un mazzo mescolato, completamente mescolato, è impossibile sapere la locazione delle carte, giusto? Sì, non so, sei d'accordo in questo, ti chiede una cortesia, tu stesso dimmi stop quando vuoi tu, prendi la carta, guardala bene, vista, mettila, fatta, io non posso mai, puoi mai sapere, scelta tua, e non solo, io do anche una mescolata, perché uno può pensare che magari è giusto, genuina, ma ne diamo anche due perché una magari non è convincente, giusto? Sì, quindi nessuno può sapere al mondo, che carta è, che carta è, ora di che la cortesia prendi un mazzetto piccolo da sopra, ok, guarda se c'è la tua carta, no, guarda, apri, apri pure, a tutte le carte, guarda se c'è la tua carta, io non posso sapere, non mi dire niente, io non so niente, no, no, dunque, la carta non c'è, ok, metti qua il mazzetto, adesso ascoltami bene, tutto dà il caso, io non faccio niente, prendi questo mazzetto e fai, tre, ma tutto il mazzo, tutto il mazzo, questo non ci interessa, finiti, e gira tre carte di faccia, e continua fino a finirle, ah, fin quando vedo la mia carta, certo, no, 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 tu finisci, fai, non mi dire niente, non so niente, io però la so e quindi la vedo, e la mia testa la vedo, sei d'accordo che da un mazzo è mescolato, che io non ho mai controllato le carte, tutto dà il caso, sei d'accordo con questo, bene, ora finisci, direi che è impossibile, è impossibile, bravissimo, ora, direi che è impossibile, fatto questo, facciamo notare, davanza una, sì, sì, metti qua, fatto questo, facciamo notare la molteplicità delle carte, quante sono le carte, sei d'accordo su tantissime, tantissime, in che fila è la tua carta, ok, io non voglio sapere niente, giusto, io prendo le carte tutte così, e, e ti faccio notare, che prendendo le carte così, la tua carta sta dentro, ma non possiamo sapere niente, e non solo, mescoliamo, 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 ah, pure mescoliamo, sì, proprio per fare una cosa che è impossibile al mondo, perché solo nella tua mente è la carta, sei d'accordo, no, certo, oh, fin quando siamo a questo, e nella telecamera per chi ve l'ho fatta vedere, certo, adesso, la cosa inspiegabile di questo effetto, che non, è impossibile, è impossibile, è impossibile, è impossibile, io ti chiedo la cortesia, per la prima volta puoi dire la tua carta, la devo dire, 7 di cuore, signori, signori, è già successo, c'è, giro la più aperta, ragazzi, 7 di cuore, non ci scherziamo, con tutte le mescolate che vi ha dato, e tutto, e tutto quello che ha fatto, ed era solo mnemonicamente nella mia mente, nella tua mente, sì, incredibile, grazie, incredibile,